ciao amici di mister gadget è venuto finalmente il momento di vedere come funziona di raccontare anche come funziona oltre che vedere da vicino il oneplus nord questo smartphone con un display fluid amoled da 6,44 pollici questo smartphone che ha un sistema operativo basato su android 10 con la personalizzazione tipica di oneplus questo smartphone che ha uno spessore di soli 8,2 millimetri un lato molto pulito con il cosiddetto volume rocker un altro con la doppia il doppio cassetto per le sim l'altoparlante l'attacco usb type c dall'altro lato invece il pulsante d'accensione e poi lo slider per mettere il telefono in modalità silenziosa in vibrazione oppure in modalità normale con la suoneria sulla parte superiore spazio molto pulito con uno dei microfoni di cui il telefono è dotato sul retro quattro fotocamere di cui poi entreremo nel su poi entreremo nel dettaglio e sulla parte frontale ben due fotocamere la prima volta tra l'altro che oneplus realizza uno smartphone con due fotocamere frontali peraltro questa selfie cam da 32 megapixel è veramente notevole è affiancata ad un grand'angolo da 8 megapixel con un'apertura di 105 gradi quindi tutto sommato non vi serviranno più i selfie stick anche quando siete con gli amici la fotocamera posteriore invece 48 megapixel per la fotocamera principale di sony affiancata al grand'angolo da 8 ci sono poi sensore macro e sensore di profondità la fotocamera principale è stabilizzata elettronicamente e anche con stabilizzazione ottica risultato molto buono nei video c'è una modalità che è una modalità notturna vi faccio vedere anche il menu della fotocamera che è molto semplice quello che conosciamo molto bene no vedete c'è la modalità notturna avete due modi per aprire le modalità cioè scorrere oppure sollevare direttamente dal basso nella parte alta invece avete a seconda del tipo di modalità che viene scelta un diverso modo per gestire le opzioni qui ad esempio per passare dai 12 e 48 megapixel attivare la macro mettere gli effetti di colore curiosamente le impostazioni generali della fotocamera sono messe qua in questa posizione un po diciamo scomoda però si gestisce in modo semplice avete che vedete che avete la possibilità di attivare la rilevazione dei contenuti automatica o qui viene chiamato rilevamento gestite la risoluzione dei video e anche l'eventuale efficienza tipo di formato con cui riprendete le proporzioni poi dello schermo per le vostre foto insomma e tutti i dettagli a cui siamo abituati nella fotocamera un sensore frontale per gestire il passaggio dal grandangolo alla ripresa normale allo zoom 2x in modo così semplice oppure ruotando potete invece fare un controllo più puntuale della vostra inquadratura e del livello di zoom che voi desiderate quindi una fotocamera che tutto sommato si comporta bene e che ha una modalità di funzionamento semplice anche i video sono di ottima qualità vedete avete la possibilità di mettere la modalità super stabile in questo caso viene combinata stabilizzazione ottica con stabilizzazione digitale c'è qualche artificio sui video ma tutto sommato il risultato è buono vi faccio vedere anche insomma così ripresa dallo schermo non il massimo però tutto sommato anche le foto con diciamo dei contesti di ripresa brutti dei contesti di ripresa che non sono il massimo tutto sommato sono fatte ebbene non è la miglior fotocamera in assoluto che sia arrivata sul mercato ma devo dire che è stato fatto un buon lavoro di ottimizzazione questo è lo stesso sensore principale che c'è a bordo del oneplus 8 altro pillar pilastro di questo telefono è il display 6,44 pollici di diagonale cornici tutto sommato vedete più che accettabili è un fluid amoled con un refresh rate a 90 hertz in realtà quando voi scegliete una frequenza di refresh del display a 90 hertz il software sceglie automaticamente che tipo di prestazione erogare a seconda dei contenuti che voi state guardando no quindi essenzialmente quando voi state guardando un contenuto che può essere ad esempio un contenuto statico che non ha bisogno di un refresh rate elevato viene abbassato automaticamente refresh rate a 60 hertz e questo vi aiuta anche a salvare la batteria però vedete insomma angolo di lettura buona luminosità massima ottima 2048 addirittura livelli di luminosità regolabili nel display supporto a diversi standard peraltro ecco su questo aspetto volevo farvi vedere anche che dove c'è proprio il software dedicato al display avete la possibilità di fare la calibrazione dello schermo potete andare con la calibrazione vivida naturale oppure con la calibrazione avanzata addirittura con lo standard di calibrazione che volete utilizzare quindi questo è un software se noi dovessimo andare voce per voce a guardare insomma che cosa il software oxygen permette troveremmo da un lato un software molto semplice ma dall'altro anche un software molto molto completo in grado di soddisfare anche coloro che hanno insomma un desiderio di personalizzazione elevata abbiamo detto dunque gorilla glass 5 per il display fluid amoled 90 hertz il la ratio è quella 20 noni una risoluzione 2400 per 1080 pixel con 408 pixel per pollice display sicuramente di ottimo livello dentro il telefono che è fluidissimo qualunque cosa voi facciate magari ecco diciamo che non è proprio questo ciò in cui potete vedere la fluidità fatemi abbassare un po il volume adesso io ho sbattuto nel giocare con real racing magari ecco qua vedete un po di più se avesse davanti a voi il display potreste vedere anche da vicino proprio la fluidità con cui vengono gestite le immagini tutto sommato anche il calore abbastanza contenuto di questo processore che è lo snapdragon 765 g 8 o 12 giga di ram con 128 256 giga di memoria interna non c'è l'espansione di memoria sappiamo che questa è una delle caratteristiche di oneplus a cui non piace molto affidarsi alla variabile del possibile uso della memoria sbagliata batteria 4115 miliampere con una carica che arriva a 30 watt il che vuol dire insomma che tutto sommato potete caricare la vostra batteria in modo veloce da 0 a 70 per cento in 30 minuti questa è la promessa che viene fatta da oneplus e io sono riuscito è vero che non ho usato il telefono con il 5g ma sono riuscito ad utilizzare questo smartphone molto molto bene vorrei farvi sentire anche l'audio con cui si presenta questo smartphone perché è veramente notevole alziamo il volume se io vedete tappo l'unico punto da cui viene messo l'audio ovviamente il volume scompare ma quando non ci sono impedimenti ottimo il volume ma anche la definizione del suono perché ha un buon livello di bassi se fate uno swipe in questa direzione trovate il briefing quotidiano di google quando personalizzate il vostro launcher potete scegliere anche se avere lo schermo il cassetto con le applicazioni oppure no avete una profondo livello di personalizzazione se volete semplicemente accendere il telefono ad usarlo vedete il diciamo suo aspetto è molto vicino a quello stock velocissimo da usare pur non avendo lo snapdragon 865 compatibile con il 5g ci sono le modalità che ben conosciamo a bordo di questo telefono ad esempio abbiamo le modalità zen la modalità fnatic quindi per poter giocare senza avere alcun tipo di disturbo potete attivare no devo spostare da questa parte potete attivare il ce la faccio è la modalità lettura vedete potete mettere l'effetto monocromatico sul vostro display questo è utile soprattutto magari quando volete leggere a lungo quando volete leggere soprattutto in un punto magari dove c'è scarsa luminosità intorno a voi l'utilizzo della soluzione monocromatica aiuta insomma gli occhi abbiamo già visto le due fotocamere sul fronte le cornici discretamente contenute bello il livello di costruzione circa 180 grammi di peso quindi tutto sommato piacevole anche da utilizzare proprio perché non è pesante ha una buona ricezione manca purtroppo il wifi 6 che per me è un parametro oggi importante non ha lo standard di memoria 3.0 che è un altro dettaglio che sarebbe gradito ma bisogna anche ricordare il prezzo no 399 euro per la versione con 12 giga di ram e 128 giga di memoria interna 499 euro per la versione con 12 giga di ram e 256 giga di memoria vedete le impronte un po rimangono purtroppo ci sono già degli sconti sia per gli utenti amazon prime che è una discesa già fisiologica di prezzo a distanza di pochi giorni quindi questo per me è rimane e rimarrà a lungo un vero best buy per questa fase dell'anno mi piacerebbe sapere anche cosa ne pensate anche voi ciao